Contata e com'è stato scelto il profilo di Ministro Stedda? Ministro Stedda è stata una scelta maturata in tarda serata tra la notte e la giornata poi c'è stato un incontro con il direttore Muzzi con la proprietà e a malicuori perché comunque quando c'è una sostituzione, un esomero c'è qualcosa che non è andato quindi sicuramente ci è dispiaciuto dal livello del tutto umano per una persona per bene di valori come Caprone e poi a livello tecnico e lavorativo ma sicuramente già l'abbiamo fatto con il comunicato ma l'ingraziamento nei confronti del Ministro e del suo staff per il lavoro che hanno fatto fino a ieri poi si sono sviscerate varie tematiche